Conoscete il detto tra dire e fare c'è di mezzo il mare? Oggi noi invece meditiamo tra dire e fare c'è di mezzo Dio. Vogliamo leggere insieme dal versetto 1 di Genesi 21. Dice così la parola di Dio. Il Signore visitò Sara come aveva detto e il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo quando egli era vecchio al tempo che Dio gli aveva fissato. Ti ringraziamo Signore per la Tua parola. Ti chiediamo di parlarci in quest'oggi attraverso il Tuo Spirito sia la Tua parola come una freccia che arriva dritta nei nostri cuori. Ne abbiamo bisogno e ci affidiamo alla guida del Tuo Spirito nel nome di Gesù benedetto in eterno. Amen. Se dovessi domandare prima di iniziare questa predicazione, cosa preferite tra quello che Dio fa e quello che Dio dice, penso saremmo tutti d'accordo a dire che preferiamo quello che Dio fa. Abbiamo appena cantato gran cose, egli fe. E di fatto sapere che Dio opera è qualcosa che ci rallegra, che ci consola, che ci incoraggia. Ma la realtà è che tra il dire e il fare c'è di mezzo Dio. Ovvero il Signore prima di fare qualcosa in genere, egli lo annuncia. Egli parla e c'è un tempo in cui egli prepara la nostra vita per ricevere quello che lui ci ha annunciato. E uno dei problemi maggiori che possiamo riscontrare nella nostra vita è quella di avere un'idea sbagliata di Dio. Ovvero semplicemente del Dio benefattore. Un Dio che deve rispondere ai nostri bisogni. E di fatto potremmo dire che il Dio di Sara era il Dio benefattore. Mentre il Dio di Abramo era il padre. Chi ha figli sa bene che differenza c'è tra l'essere un padre, una madre, benefattore, benefattrice o essere un padre o una madre. Che non si preoccupa soltanto di dare ma si preoccupa maggiormente di offrire la propria vita, il proprio insegnamento, la propria persona. E la differenza grossa che noi vediamo tra Abramo e Sara è che Dio aveva una relazione con il padre, appunto, con Dio, di figliolanza potremmo dire. Egli conosceva Dio e Dio si rivelava al suo servo Abramo. Sara no. Sara aspettava che Dio la benedicesse. E arrivò il tempo in cui effettivamente Dio la visitò. Ma in questa mattina io ho da dire una cosa importante. Finché tu crederai o spererai in Dio per ottenere una benedizione, conoscerai davvero poco di Dio. Perché il nostro scopo, il nostro intento, la nostra grande aspirazione non dovrebbe essere quella di essere benedetti. Ma dovrebbe essere quella che Dio ci tratti come figli. E un padre ciò che più desidera fare è trasmettere se stesso al proprio figlio. E io ciò che innanzitutto ho da dire in questa mattina ad ognuno di noi è che ciò che noi dobbiamo arrivare a desiderare è non che Dio ci benedica ma che Dio ci dia se stesso. Che Dio abbia piacere di comunicare se stesso nelle nostre vite. Che Dio prenda piacere nel trasmetterci il suo carattere, la sua persona, la sua volontà meravigliosa nella nostra vita. Perché altrimenti noi vivremo tutta la nostra vita aspettando che Dio ci benedica e magari certamente Lui arriverà il tempo in cui lo farà e quante volte Lui ci ha benedetto ma questo non significherà che noi abbiamo realizzato lo scopo di Dio per la nostra vita. Ascolta bene quindi quello che ti dico. Non pensare a Dio come il tuo benefattore ma pensa a Dio come colui che vuole trasmetterti se stesso. Un padre vuole dare se stesso al proprio figlio. Io ho una figlia ormai adolescente e so benissimo che la cosa più semplice da fare è quella di dare. Altra cosa è insegnare, comunicare, trasmettere, dare valori e Dio vuole fare altrettanto con noi, non ci vuole trattare come bambini che semplicemente gli dai quello che vogliono e li rendi contenti. Non è questo il Vangelo, non è questa la parola di Dio. Ricordo circa un anno fa stavamo facendo gli ammaestramenti per i battesimi nel centro di accoglienza, avevamo un gruppetto di ragazzi africani e in quel periodo si trovavano qua Erion e Antonella, missionari in Congo e li abbiamo invitati a venire da noi per farli conoscere questi ragazzi africani perché il nostro intento era capire se effettivamente qualcuno di loro era pronto per battezzarsi e loro ci dissero una cosa molto importante. Voi capite se questi sono veramente convertiti, se sono riusciti a fare quel passo in più dal pensare a Dio come il benefattore a realizzare Dio come proprio Signore e Salvatore. Effettivamente poi abbiamo riscontrato che per una questione anche culturale questi ragazzi cercavano Dio, pregavano ma semplicemente perché volevano ottenere magari un lavoro, ottenere una sistemazione, risolvere qualche difficoltà materiale, pratica e di fatto una volta ottenuto quello poi sparivano, si deleguavano. E allora non vogliamo commettere lo stesso errore. Dio non vuole essere per te soltanto il benefattore, Dio vuole essere per te il padre. E sapete che questa è una delle più grandi rivoluzioni se non la rivoluzione principale che Gesù ha apportato. Per gli israeliti era impossibile pregare in questo modo padre mio. Se voi leggete tutto l'Antico Testamento non troverete mai una singola volta in cui qualcuno prega dicendo padre mio. Esiste in Isaia 63 al versetto 16, Isaia 64 al versetto 8 un passaggio in cui dice tuttavia tu sei nostro padre. Israele identificava Dio come lavenu in ebraico, padre nostro, il padre del popolo. Ma era impensabile che qualcuno si rivolgesse a Dio come il proprio padre. E Luca al capitolo 2, dodicenne nel tempio, lo troviamo nel tempio appunto a discutere con i sapienti, con gli studiosi e a un certo punto arrivano i genitori, li domandano ma perché sei stato qua e ci hai fatto spaventare? Non sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del padre mio. E quando Gesù parlava così cominciavano ad accusarlo di bestemmia. non era ammesso che qualcuno potesse descrivere Dio come proprio padre. Ma questa è la più grande rivoluzione potremmo dire che Gesù ha portato ad ognuno di noi non per avere un rapporto con Dio come popolo per quanto sia anche una cosa positiva ma avere un rapporto personale di figli con il nostro meraviglioso amorevole Padre Celeste. E l'Apostolo Paolo dichiara esattamente queste parole. Noi abbiamo ricevuto non lo spirito di servitù per ricadere nell'errore ma abbiamo ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale noi gridiamo Abba Padre. Cosa vuol dire Abba? Abba è una parola aramaica che significa padre mio o anche papà. Pensate un po' dove siamo arrivati attraverso Gesù. Egli ci dà la possibilità di rivolgerci al Padre come il nostro papà colui che ci ama e vuole il bene per la nostra vita. E allora in questa mattina forse tu sei qua e magari da tempo stai pregando per una benedizione io voglio dirti che la benedizione più grande è sapere che Dio è tuo padre. Questa è la grande benedizione. Non una guarigione, non un miracolo, non un intervento soprannaturale. La più grande benedizione per me e per te è sapere che abbiamo un padre meraviglioso nei cieli che ci ama e provvede per noi. Abramo aveva un padre. Sara voleva un benefattore. E questo versetto 1 del capitolo 21 ci dice che il Signore visitò Sara come aveva detto il Signore fece ciò che aveva annunciato. C'è un dire e c'è un fare. Prima viene il dire e poi arriva il fare ma nel mezzo c'è Dio. E quante volte fratelli e sorelle noi siamo rimasti fermi al dire pensando che poi il fare non arriverà. Non è così. Il versetto seguente ci dice che Sara concepì e partorì un figlio quando Abramo ormai era vecchio al tempo che Dio gli aveva fissato. Quindi voglio dirti in quest'oggi che se Dio ha dato a te una parola vale quanto un'azione. perché il Signore è fedele e nel tempo stabilito da Lui, nel tempo fissato, Lui non ti lascerà fino a che tu vedrai la manifestazione della sua promessa. Una parola, fratello, sorella, vale quanto un'azione. E se tu questa mattina forse non uscirai di qua guarito ma Dio ti dirà, ti rivelerà che sarai guarito, prendilo come lo stesso miracolo da parte di Dio perché nel tempo che Lui ha fissato vedrai la sua manifestazione. Noi vorremmo vedere le cose subito ma c'è un dire e c'è un fare e nel mezzo c'è Dio che ci prepara che ci fa camminare nella strada che Lui ha preparato perché quel giorno possa arrivare e possa manifestarsi. L'importante è non perdersi per strada e fare in modo che quella parola ci accompagni fino a poi la sua manifestazione. Il primo versetto ci dice che Dio visitò Sara è una bellissima espressione visitare. Dicevo prima che a noi piace l'iddio che fa il Signore che opera e questo è esattamente l'iddio della visitazione aspettiamo quel culto speciale quel momento particolare quel incontro meraviglioso in cui veniamo visitati e alle volte anche preghiamo Signore visitaci Signore donaci qualcosa di particolare ma Dio non è Dio delle visitazioni Dio è Dio delle frequentazioni Sara aspettava una visitazione Dio invece con Abramo si frequentava avevano un rapporto che non era occasionale saltuario un rapporto che si verificava in certi momenti ma era un rapporto di continuità di relazione era un qualcosa che si verificava continuamente e sono andato a cercare questa parola nell'ebraico questo verbo pakad e ho scoperto un sacco di cose che non immaginavo e questa mattina brevemente ve ne parlo visitare potremmo tradurlo anche come appunto prendersi cura o curare e come vi dicevo è importante cari nel Signore che arriviamo nella nostra esperienza cristiana a non aspettare più la visitazione ma a instaurare con Dio un rapporto che ci permetta quotidianamente di essere frequentati da Lui lo sapete che Dio vi vuole frequentare Dio desidera stabilire con ognuno di noi una relazione continua lo troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 se voi dimorate in me io dimorerò in voi e voi allora porterete molto frutto Dio non vuole visitarti perché oggi è domenica perché è il giorno del Signore perché siamo in chiesa Dio vuole frequentarti di giorno e di notte Lui vuole avere la libertà di venire a te e di rivelarti la sua persona di comunicarti i suoi progetti di parlarti di quello che Lui desidera fare nella tua vita io mi rallegro che noi siamo qua e celebriamo il culto e grazie a Dio possiamo sperare che in questa mattina il Signore tocchi in modo meraviglioso le nostre vite ma ciò che mi preme è sottolineare è che Dio lo può fare altrettanto quando noi non siamo qua Egli desidera allo stesso modo che la nostra vita possa godere di questo incontro di questa frequentazione in maniera continua che bello quando Dio viene di notte e ci toglie il sonno e ci costringe a stare alla sua presenza a cercare il suo volto a parlare con Lui ma tu parli con Dio perché Sara aspettava una visitazione ma Abramo parlava con Dio io vorrei tanto fratelli e sorelle che noi come credenti come Chiesa avessimo questo bisogno di parlare con Dio di stare dinnanzi a Lui di avere quella intimità perfetta e meravigliosa con la sua presenza allora visitare non significa soltanto un incontro occasionale ma significa che Dio desidera frequentarti stare con te mostrarsi nella tua vita e questo ciò che lo Spirito Santo ministra opera io non vi lascerò soli ma verrà il Consolatore che vi istruirà vi guiderà in tutta la verità perché prenderà del mio e ve lo darà non una visitazione ma una frequentazione e poi ancora questo verbo Pakad lo troviamo ad esempio in Giosuè 1 ma anche in numeri 4 prendiamo un attimo Giosuè 1 Giosuè 8 scusate il versetto 10 ve lo leggo io dice così la mattina presto si alzò passò in rassegna il popolo è curioso che questo verbo Pakad visitare si può tradurre anche come passare in rassegna passare in rassegna potremmo per estensione dire convocare per questo dicevo in numeri 4 quando ci sono poi tutti gli elenchi delle varie genealogie lo vediamo dopo questo in ogni caso si parla di una convocazione a breve ci saranno gli europei quanti seguono il calcio ascoltano magari il telegiornale questi sono i convocati io nella mia piccola esperienza quando ero ragazzo adolescente uno dei giorni più belli della mia vita prima di conoscere il signore è stato quando nel mese di luglio se non ricordo male avevo 15 anni mi arriva una chiamata era il direttore sportivo di una squadra di calcio non parliamo né del Milan né dell'Inter una squadra un pochino diciamo migliore di quella dove giocavo io un campionato regionale e io mi sentivo al settimo cielo perché ero stato convocato avevo la possibilità tra virgolette di entrare in un club più importante ho giocato pochi mesi poi sono tornato nella mia squadra è bello quando veniamo convocati e Gesù lo troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 9 al versetto 1 dice convocati i 12 diede loro autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie io credo che in questa mattina il signore voglia convocarci sia ben lieto Dio in questa mattina di convocare la tua vita non per darti semplicemente una benedizione va per mettere in te qualcosa di glorioso di potente di straordinario che potrà essere utilizzato perché tu lo possa servire in un modo prodigioso che bello fratelli e sorelle quando riceviamo una convocazione da parte di Dio e tornando sempre alla mia limitata esperienza uno dei momenti più belli altresì che ho vissuto è stato quando per la prima volta il pastore Gennaro a una riunione dei giovani mi disse porto un pensiero avevo 18 anni ero convertito da poco e mi ricordo a quella riunione dei giovani portai un pensiero Ezechiele 37 le ossa secche fu un fiasco se ci penso il signore ha avuto veramente fiducia lo dico anche per incoraggiare qualcuno che magari desidera a servire il signore magari ha portato qualche volta un pensiero e si aspettava scintille e non è successo niente peggio di me non puoi andare stai tranquillo ma quella convocazione vieni a servire il signore sei chiamato ad essere un operaio nel regno di Dio e io vorrei tanto che questa mattina ognuno di noi senta questa convocazione non c'è nessuno che viene lasciato in disparte ma sei chiamato tu a fare qualcosa per il regno di Dio e il pastore dopo quella predicazione mi disse guarda non è che il messaggio non c'era era il modo effettivamente io pensavo fosse come un'interrogazione della scuola mi diede due tre dritte e dopo due tre mesi forse mi trovai in un culto in casa a Casal Maiocco e predicai il Salmo 16 e mi ricordo che quella volta feci una predicazione ho provato di nuovo un paio di volte a predicare il Salmo 16 ma come ho predicato quella volta ho sentito veramente che il signore mi chiamava che il signore mi convocava ho compreso in quel momento che la mia scelta doveva essere quella di dare la mia vita al signore io ti voglio incoraggiare questa mattina perché Dio ti sta convocando lui vede quello che c'è nel tuo cuore conosce quelle che sono anche le virtù le attitudini i talenti che lui ha dato ha riservato alla tua vita sentiti convocato e prega in quest'oggi dicendo signore non voglio essere benedetto voglio essere convocato voglio essere chiamato al tuo servizio per adoperarmi per l'avanzamento del tuo regno e Dio ti farà vedere come abbiamo letto in Luca 9 che sotto la convocazione riceverai anche l'unzione riceverai anche la benedizione che trasformerà la tua vita l'ultimo punto questo verbo visitare significa anche censire sfido chiunque qua ad amare le liste dei censimenti c'è qualcuno a cui piacciono i censimenti nella Bibbia prendete il primo libro delle cronache 11 capitoli genealogie su genealogie poi lì in mezzo trovi gli abes questo piccolo dettaglio ci sono delle perle anche in mezzo genealogie ma in generale nessuno di noi apprezza particolarmente le genealogie e numeri 4 quando si sta facendo il censimento si usa esattamente questo verbo pakad io ho cominciato a pensare cosa ci può essere in relazione tra una visitazione e un censimento e allora cominciavo a riflettere come censire significa entrare casa per casa persona per persona ci doveva essere un funzionario che doveva andare veramente a verificare se il censimento rappresentasse il vero probabilmente il capo famiglia dava i dati relativi al proprio parentato e poi qualcuno doveva entrare in casa e verificare se effettivamente corrispondevano i nominativi i numeri delle persone casa per casa persona per persona fino all'ultimo quello più insignificante doveva essere ricompreso nel censimento vi ricordate quando Samuele arrivò a casa di Isai che cosa accadde? c'erano sette fratelli in casa di Isai e Isai pensava che fossero quelli ma lo Spirito Santo aveva scelto l'ottavo Davide colui che non era nemmeno in casa e che se ne stava a pascolare le greggi tanto era insignificante all'interno di quella famiglia e quando noi pensiamo al censimento dobbiamo esattamente considerare questa scena in cui Dio viene a cercare persino colui che è insignificante colui che non ha nessun valore colui che non è affatto apprezzato nemmeno dai suoi stessi familiari Dio andò a cercare esattamente Davide e io credo questa mattina fratelli e sorelle che nessuno di noi è insignificante al cospetto di Dio forse tu guardi in casa tua e pensi che per quel tuo familiare per quel tuo figlio non ci sia speranza io voglio dirti che Dio lo ha censito lui sta davanti al suo cospetto e non è affatto insignificante perché sarà lui che Dio sceglierà che bello sapere che Dio viene casa per casa io sarò lì Dio di tutte le famiglie dice Geremia 31 e Dio viene casa per casa questa mattina entra in casa tua per fare un censimento e dire fino all'ultimo sono miei anche quel figlio quella figlia che tu vedi lontano per cui non hai speranza è stato censito e tu puoi credere che il Signore saprà come riportare a sé riattirare a sé quell'anima che sembra smarrita perché c'è un censimento fatto dallo Spirito Santo e concludo raccontandovi la storia di una persona insignificante 1820 nasce una bambina il cui nome è Fanny Crosby negli Stati Uniti pochi mesi dopo la sua nascita suo padre muore questa bambina vive con la madre e con la nonna una famiglia di cristiani e quando ha 3-4 anni si ammala agli occhi questa bambina e un medico cercando di risolvere il problema finisce per renderla cieca una bambina orfana di padre dall'età di 4 anni cieca potete trovare qualcuno più insignificante di una bambina del genere eppure nella sua famiglia si serve il Signore sua madre e sua nonna amano il Signore e così questa bambina ascolta perché non può leggere non può imparare a leggere come noi tutti che abbiamo la vista grazie a Dio ascolta che tutti i giorni le viene letta la parola di Dio all'età di 12 anni Fanny Crosby conosce tutto il Nuovo Testamento a memoria conosce tutti i primi 5 libri della Bibbia il Pentateco a memoria conosce tutti i salmi a memoria sapete chi è Fanny Crosby è la principale autrice di cantici cristiani questa bambina insignificante ha scritto oltre 8000 cantici prima abbiamo cantato addiosi alla gloria sapete chi l'ha scritto Fanny Crosby e quel cantico il 143 lieta certezza sono di Gesù chi l'ha scritto Fanny Crosby 8000 cantici non solo cantici è stata una missionaria una predicatrice una donna di Dio insignificante per gli uomini ma che Dio ha usato in un modo meraviglioso allora tu non dire che tuo figlio o tua figlia è insignificante perché il Signore può cambiare le cose e può rendere le cose che non sono in cose che sono alla sua gloria non è l'Idio della benedizione non è l'Idio della visitazione è l'Idio Padre l'Idio Padre che ti vuole frequentare che ti vuole convocare e che ti ha censito nel suo registro e vuole renderti uno strumento nelle sue mani tradire il fare c'è di mezzo Dio quindi questa mattina cari nel Signore prendiamo una parola per noi forse non abbiamo ancora visto i miracoli non abbiamo ancora visto il fare di Dio ma prendiamoci la sua parola e diciamo Signore io voglio servirti come lo ha fatto Abramo ti voglio servire per mezzo della fede non perché tu mi hai risposto perché tu mi hai esaudito ma perché tu sei il mio padre e sai ciò che è buono ciò che è giusto per la mia vita e nel servirti io sono sicuro che arriverà il tempo fissato in cui anche vedrò quelle preghiere che stanno nel mio cuore esaudite per la tua gloria vogliamo alzarci in piedi alleluia gloria a Dio meraviglioso sei Signore Dio visitò Sara però in questa parola c'è molto di più c'è tanto per te c'è tanto per noi Dio non è l'idio della visitazione non è l'idio soltanto della benedizione Dio è il padre il padre a cui tu puoi rivolgerti così come ci ha insegnato la parola Abba padre mio papà voglio riceverti nella mia vita voglio conoscerti voglio ricevere il tuo carattere la tua presenza mi possa cambiare trasformare interamente e allora Signore so che quando tu mi convocherai quando tu mi chiamerai avrò l'unzione la potenza l'efficacia per essere tuo strumento potrò essere un predicatore una predicatrice un insegnante un evangelista potrò essere uno strumento di grazia di salvezza perché questo è lo scopo per cui tu mi hai salvato non per benedirmi ma per essere una fonte di benedizione questa è stata la prima promessa che Dio ha rivolto ad Abramo io ti benedirò e tu sarai una fonte di benedizione e allora Dio non scarta nessuno c'è un censimento in cui anche il tuo nome è scritto Dio è entrato casa per casa ha visto ogni singolo membro della tua famiglia e ti dice che questo membro a cui tu magari non dai valore non dai importanza sarà uno strumento nelle sue mani per la sua gloria come Fanny Crosby ancora quel tuo figlio quella tua figlia quel tuo genitore quel tuo familiare Dio lo potrà cambiare trasformare e rendere uno strumento meraviglioso nelle sue mani alleluia e allora tradire il fare c'è di mezzo Dio prima di vedere il fare ascoltiamo la sua voce ascoltiamo la sua parola e lasciamo che questa visitazione la vera visitazione di Dio possa raggiungere ognuna delle nostre vite Dio ci benedica amén grazie a tutti